Nicola Molteni, gli aumenti autostradali decisi dal governo Letta non piacciono alla Lega Nord, perché? Perché sono l'ennesimo atto di razzismo del governo nei confronti del Nord, sono un atto vessatorio e discriminatorio nei confronti del Nord. Al Nord ci sono gli aumenti dei rincari dei pedaggi autostradali, cosa che invece non avviene al Sud. Il Nord continua a pagare e il Sud no. Questa è una misura iniqua e sbagliata, che per questo noi contestiamo e contestiamo duramente. Ad esempio, a fronte di una media nazionale di aumento dei pedaggi del 3-9%, sulla Milano-Como assistiamo a un aumento addirittura dell'11,5%, tre volte tanto la media nazionale. E la 9, ad esempio, è l'autostrada del PIL, dove circola e viene veicolata la ricchezza e la produttività del Paese. Noi non possiamo accettare questa ennesima rapina, ennesimo sacco ai danni del Nord, ed è per questo motivo che abbiamo organizzato per sabato 11 gennaio, presso alcuni caselli autostradali del Nord, una dura protesta, una protesta contro l'aumento dei pedaggi, una protesta contro il governo Letta, che ha voluto questi pedaggi. Con i pedaggi del Nord, con l'aumento dei pedaggi del Nord, si pagano poi quelle autostrade vergognose e indegne, cito ad esempio la Salerno-Reggio Calabria, sulle quali il pedaggio non è assolutamente previsto. Il Nord non accetta questa ennesima discriminazione ed è per questo motivo che faremo sentire forte la voce del popolo produttivo e laborioso del Nord. Grazie. Grazie Grazie Grazie